Venezia e 5 altre leggende Benvenuti in questo nuovo video in cui vi parlerò di altre 5 leggende su Venezia. La prima parla del fantasma di Giordano Bruno che è ospitato dal palazzo Mocenigo Cavecchia che fa parte di un complesso di edifici che si affacciano sul Canal Grande, detti Palazzo Mocenigo, dal nome di un ramo dell'aristocratica famiglia che qui vi abitò. Il palazzo ospitò numerosi personaggi della cultura, della politica, della filosofia e dell'economia del tempo tra cui il filosofo Giordano Bruno che vi soggiornò tra il 1591 e il 1592. Giordano Bruno fu un monaco esoterista e studioso di dottrine dell'occulto e della magia. Era stato inviato a Palazzo Mocenigo perché il proprietario all'epoca Giovanni Mocenigo voleva prendere le tecniche mnemoniche e le arti magiche ma accorgendosi che gli insegnamenti del maestro non davano alcun frutto e invidioso dei suoi poteri lo denunciò con le accuse che l'avrebbero portato a finire in carcere a Venezia e poi sul rogo in campo dei fiori a Roma il 17 febbraio 1600 con le accuse da parte dell'inquisizione di blasfemia, stregoneria, disprezzo del cristianesimo e mancanza di fede nelle sacre scritture e nella Trinità. Il processo durò ben sette anni in cui Bruno negò sempre inutilmente anche sotto tortura le accuse che gli venivano mosse rifiutandosi di abiurare. Si narra che ogni notte dell'anniversario del suo supplizio il fantasma compaia nel palazzo, testimoni delle apparizioni nel monaco soltanto donne di oltre 85 anni che avrebbero visto il suo volto arso dietro alla finestra superiore destra di Camo Cenigo dove visse. Inoltre, in passato, ci sarebbero stati nello stesso fenomeni paranormali legati all'acqua a cui Giordano Bruno aveva dedicato alcuni suoi studi. Per la prossima ci spostiamo in Campo San Giovanni e Paolo per la leggenda del cuore di madre. Cesco Pizzigati era uno dei più abili scalpellini veneziani dell'epoca. Cesco creò alcuni dei preziosi giochi prospettici della facciata della scuola grande di San Marco Pochi anni dopo, nel 1501, un'improvvisa malattia colse la giovane moglie dell'artista, Fiorinda. Cesco fece di tutto per guarirla, vendente anche la bottega, ma la moglie morì, lasciando il marito in miseria. Senza più un soldo e disperato, Cesco si ritrovò a mendicare sul portale della scuola che egli stesso aveva aiutato a edificare. La sua vita si incrociò con un levantino, un ebreo divenuto turco, tormentato dal conflitto interiore, d'essere per metà veneziano e metà levantino e quindi male accettato da entrambe le comunità. Egli sfogava la propria frustrazione, picchiando la madre che supportava gli sfoghi violenti del figlio amandolo più della sua stessa persona. Una sera però la situazione precipitò ed in un impeto di ira il levantino alcolterò la propria madre e le strappò letteralmente il cuore dal petto. Terrorizzato dal gesto compiuto, il giovane fuggì, continuando a tenere il cuore straziato in mano. Sul primo gadino di un ponte, accanto alla scuola, inciampò e cadde e persi il cuore della madre. Egli sentì una voce uscire dall'organo che diceva «Figlio mio, ti sei fatto male?» Uscito di senno, il giovane si suicidò, gettandosi tra i flutti di fronte al cimitero. Si dice che se nelle notti fredde d'inverno passate per Campo San Giovanni e Paolo, si possano ancora sentire i suoi tristi lamenti. Cesco l'artista vide la scena e decide di ricordarla a modo suo. Ancora oggi, sul portale, tra i profili delle navi, è possibile vedere una figura umana che porta un turbante in testa e che regge in mano un cuore umano. La nostra prossima storia come protagonista è un macellaio e la sua famosa ricetta dello sguazzetto di carne. Siamo nel 1503 e Biagio Carnio, probabilmente originario della Carnia, era un noto Luganegersa sicciaio che aveva la sua pottega in riva al Canal Grande, nel Sestieri di Santa Croce. La macelleria di Biagio era notissima in città e frequentata da tutti i veneziani, specialmente per una pietanza che spopolava in città lo sguazzetto alla Biagio, ricetta che aveva carni morbidissime che si sceglievano in bocca. Tutto accadde un giorno in cui uno degli operai soliti frequentatori della bottega fece una scoperta che fece non ridire tutti. Quello che sembrava un ossicino rimasto nello spezzatino di carne si rivelò essere un vero e proprio dito, una falange, presumibilmente di un bambino con unghia annessa. Sconvolto e disgustato, il cliente andò presso le autorità cittadine per denunciare l'accaduto e dopo la perquisizione del locale vennero trovati ulteriori resti dei bambini. Il macennaio confessò e venne subito condannato a morte. Per prima cosa venne legato ad un cavallo e trascinato dal carcere fino alla sua bottega, dove gli vennero mozzate le mani e subito dopo decapitato tra le colonne di piazza San Marco. Il corpo inoltre venne tagliato in quattro parti e appeso alle forche della città. La bottega e la casa vennero rase al suolo e da quel momento la riva che le ospitava sunse il nome di Riva di Biasio. Affacciata su un piccolo canale, dietro piazza San Marco a Venezia si trova una casa legata a una leggenda piuttosto curiosa e inquietante. La casa C. Soranzo è identificata come casa dell'angelo perché sulla sua affacciata è visibile una statua di un angelo con un foro sopra la testa. Si narra che in passato la casa fosse abitata da Iseppo Pasini un avvocato molto devoto alla Vergine Maria ma che in realtà tanto onesto non fosse. Pare avesse accumulato molte ricchezze lucrando sulle spalle della povera gente. Egli aveva in casa una scimmietta ammaestrata che si occupava delle faccende domestiche di cui andava molto fiero. Ma era del tutto ignaro che la scimmia fosse il diavolo in persona volenteroso di appropriarsi della sua anima. A scoprire la doppia identità della scimmia fu padre Matteo Dabascio quando si recò a C. Soranzo per un pranzo. Il religioso ordinò alla scimmia di uscire subito dalla casa facendo un foro sul muro buco che sarebbe servito come eterna testimonianza dell'accaduto. Tornando a tavola padre Matteo rimproverò il Pasini per le sue malefatte rendendo tutto più teatrale strezzando un levo della tovaglia dal quale uscì del sangue quello di tutte le persone vittime degli imbrogli dell'avvocato. Questi scoppiò in lacrime e propose che avrebbe restituito tutto il maltolto alle vittime. Tuttavia rimaneva un buco alla parete della casa da quale il demonio poteva entrare da un momento all'altro. Padre Matteo suggerì al Pasini di difenderlo con l'immagine di un angelo ed è così che da più di 500 anni la figura di un angelo veglia su Casso Ranzo. Per finire è più una curiosità che una leggenda di uno dei palazzi più belli della Giudecca. La Casa dei Tre Occi è un edificio del XX secolo che fu concepito dal pittore emiliano Mario De Maria che ne fece la sua dimora veneziana. Vole così commemorare l'amata figlioletta Silvia scomparsa qualche anno prima. I tre finestroni della facciata i tre oci rappresentano infatti i tre membri superstiti della famiglia De Maria lo stesso Mario la moglie Emilia Voigt e il figlio Astolfo mentre la bifora che li sovrasta simboleggia la piccola defunta. Spero che il video vi sia piaciuto iscrivetevi al canale e attivate la campanella nella descrizione ci sono dei link di Amazon che se vi accederete per poi fare le vostre compere senza ulteriore spesa io prenderò una piccola percentuale in più se volete aiutare il canale e offrirmi un caffè c'è anche un link al mio Paypal vi ringrazio grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti